la valutazione si inserisce trasversalmente riguarda intimamente direi tutte le fasi del ciclo di vita del progetto perché la si prevede a un livello di scrittura quindi nella fase di identificazione quando noi o meglio nella fase di analisi sostanzialmente quando noi analizziamo il contesto dove stiamo operando da questo poi andiamo in una fase di scrittura di formulazione e lì ci occorre prevedere nel nostro formulario quale meccanismo quale processo di valutazione noi stiamo pensando affinché il nostro progetto garantisca qualità il raggiungimento dei risultati degli obiettivi attesi e quindi come il nostro progetto garantisca un impatto quindi chi ci valuta in questa fase di scrittura dovrà avere chiaro che noi che tipo di valutazione intendiamo in essere per il progetto che vogliamo realizzare ovviamente in fase di realizzazione il piano di valutazione verrà il processo di valutazione verrà implementato perché ci aiuterà a da un lato sarà un processo che andrà di pari passo vedremo a quello che è la gestione il monitoraggio di un progetto dall'altro lato ci dà dei feedback e delle raccomandazioni utili sia al processo in corso sia ad alimentare una nuova visione di programmazione il monitoraggio e la valutazione sono entrambi due strumenti utili che servono ci servono nell'ambito del nostro lavoro a raccogliere informazioni il monitoraggio cos'è sostanzialmente il monitoraggio è afferente riguarda i processi di gestione e di management di un progetto quindi diciamo è finalizzato a raccogliere fin dall'inizio del progetto in maniera continuativa e sistematica informazioni utili a garantire una buona gestione del progetto e la sua corrente realizzazione la valutazione anche 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 la valutazione è una è una un processo un'attività direi più un processo perché un insieme di cose utile a raccogliere informazioni che possano sostenere il processo decisionale di gestione di un progetto tuttavia la differenza è che la valutazione un processo leggermente complementare a quello del monitoraggio nel senso che raccoglie l'infa raccoglie dati informazioni delle attività di monitoraggio in corso però si propone di dare delle raccomandazioni dei feedback più sistematici anche più orientati rispetto vedremo come vogliamo orientare il nostro processo valutativo che in una fase leggermente post a quella iniziale spesso infatti si parla di una valutazione nitimere e poi di una ex post o alla fine in qualche modo il valore della valutazione si estende oltre a quello della realizzazione del progetto perché è questa attività e questo processo e ci consente durante il progetto di come dire di avere di sapere se ciò che stiamo facendo è giusto o meno rispetto a quello che avevamo pianificato e pensato ma soprattutto allunga la visione rispetto al monitoraggio perché è quell'elemento e quel processo che ci dà poi come dire una sintesi del lavoro svolto e che alimenta le nostre riflessioni verso le attività future di programmazione o di follow up o di valorizzazione o capitalizzazione di tutto quello che noi stiamo facendo durante un progetto quindi cosa serve il monitoraggio serve a raccogliere i dati di avanzamento del nostro progetto quindi rispetto alle tempistiche rispetto ai costi rispetto agli output e alle deliverable cioè a tutta la fase di implementazione di realizzazione ci serve diciamo a verificare è in fase ex ante anche ad elaborare però dico a verificare che gli indicatori che noi abbiamo deciso accostato al nostro progetto si stia siano effettivamente sempre realizzabili e quindi sempre come dire in linea con quanto abbiamo pianificato ci consente in itinere quindi costantemente dall'inizio alla fine di raccogliere dati che possano in qualche modo non in qualche che possano costantemente aggiornare il nostro piano di lavoro e magari integrarlo rispetto anche alla gestione di fattori di rischio o eventi in attesi che normalmente capitano durante l'implementazione o realizzazione di un progetto e quindi anche aggiornare il nostro piano di lavoro rispetto anche eventuali scostamenti che da questa attività di monitoraggio noi apprendiamo il monitoraggio diciamo ci serve anche per rendicontare quanto stiamo facendo c'è in itinere c'è periodicamente rispetto alla temporalità che noi scegliamo però ci serve a rendicontare quanto stiamo facendo come lo stiamo facendo e rispetto all'uso di x risorse finanziarie eccetera eccetera ci aiuta a garantire la qualità del nostro processo la qualità degli output la qualità di quello che noi stiamo facendo in che modo monitoraggio e valutazione dicevo prima sono complementari quasi si assomigliano però sono diversi perché come vi accennavo in questa figura lo si vede meglio fanno riferimento a delle fasi leggermente diverse nel senso che si alimentano l'un l'altro perché è dal monitoraggio che la valutazione trae i suoi dati però la valutazione poi li estende li riassuma li semplifica li diciamo li elabora in forma di raccomandazioni e mentre il monitoraggio come vedete da questa immagine è legato al ciclo di vita di un progetto la valutazione inizia con il ciclo di vita di un progetto e va oltre perché ci serve ad orientare la nostra vita ci serve ad avere una valutazione rispetto a ciò che vogliamo fare nel nostro futuro prossimo quindi cosa vogliamo mettere dentro la nostra programmazione quindi ci serve davvero a come dire a raccogliere e a fare tesoro delle esperienze svolte però in realtà diciamo cosa ci serve la valutazione volendo dare una definizione ci serve a verificare abbiamo detto se un progetto è in linea con quello che abbiamo un pianificato rispetto ai risultati attesi agli obiettivi specifici e generali che avevamo fissato eccetera eccetera e ci serve a intervenire nei processi decisionali che sono peculiari che sono fondamentali rispetto alla realizzazione e ben riuscita del nostro progetto programma diciamo che il processo di valutazione andrebbe inteso come un processo integrante quindi veramente intimamente connesso assolutamente complementare quindi non inalienabile diremo potremmo dire rispetto a quello che è la gestione di un progetto cioè non sono due pezzi distrini sono due pezzi due organi concomitanti due organi comunicanti significa creare incominciare a inculcare nel nostro lavoro una visione a lungo termine per questo è importante mi sento di condividerlo e di porre enfasi su questo concetto perché spesso nel nostro lavoro siamo orientati al breve termine cioè il nostro progetto al programma in esecuzione eppure le attività di valutazione quello che noi stiamo facendo ci impongono una visione a lungo termine cioè il nostro progetto non ha senso se muore se tutto si chiude le porte le finestre si pari quando il progetto finisce ha senso se ha una il nostro progetto serve a contribuire a una programmazione più vasta quindi se noi siamo in grado e questo siamo in grado è sostanziale perché se non siamo in grado non ci riusciremo se siamo in grado di inglobare questa questa visione di sostenibilità nel nostro progetto stesso e la valutazione ci aiuta anche a questo poi a un altro a un altro valore molto importante che oggi diciamo è un valore sempre più richiesto che è quello di comunicare quello che facciamo ai nostri portatori di interesse agli stakeholder alle nostre a un pubblico più ampio quindi alle comunità locali dove i nostri progetti intervengono cosa stiamo facendo quali sono i risultati che stiamo raggiungendo qual è l'impatto qual è il segno che stiamo lasciando nel nostro o nelle comunità locali nei territori dove i nostri progetti intervengono è quello che oggi si chiama accountability cioè questo processo di riconoscimento quindi la valutazione comunicare gli esiti ad un pubblico più ampio in particolar modo a chi ci sta accanto nel nostro progetto oggi è di vitale importanza e il processo valutativo si basa su una sua imparzialità e indipendenza cioè rispetto alle organizzazioni direttamente connessa all'implementazione del progetto quindi rispetto ai partner al partenariato possono essere anche si può prevedere anche un tipo di valutazione interna vedremo ma chi fa valutazione se che sia esterna o interna o mix di entrambi ha un ruolo di imparzialità e indipendenza rispetto a chi ha altre funzioni all'interno del progetto diciamo sembra scontato ma un altro principio base è quello della credibilità quindi diciamo nel nostro piano di valutazione sia in fase di redazione quindi di formulazione sia in fase poi di realizzazione dobbiamo dare evidenza di come questo processo valutativo sarà coordinato da adeguate professionalità quindi non sarà una attività improvvisata perché il programma il bando ci chiede di usarla di di inserirla sarà coordinata da figure professionali che ne hanno l'adeguata esperienza quindi in grado di garantire la funzionalità di questo di questo percorso è un processo partecipativo questo l'abbiamo visto in tutte le fasi del pcm tutto quello che facciamo non ha senso se lo facciamo da soli perché non è un gioco o un gioco solitario è un gioco di comunità consentitemi la parola gioca è un lavoro di comunità quindi diciamo anche il processo di valutazione così come tutte le altre fasi del ciclo di vita di un progetto in linea col pcm ecco la teoria del cambiamento aggiungerei hanno senso se fatte in copartecipazione con i beneficiari i gruppi target gli attori chiave del nostro progetto questo perché perché da un lato ci aiuta a come dire strapolare direttamente feedback delle persone direttamente coinvolte interessate nell'ambito del nostro progetto sia perché tutto ciò aiuta a come dire alimentare un processo di apprendimento che è condiviso e che serve a in qualche infine ultimo ad aumentare a facilitare ad aumentare il senso di appartenenza che non solo noi in quanto promotori ma i target gli stakeholder i beneficiari che coinvolgiamo hanno nei confronti del progetto il cosiddetto senso ownership in inglese o senso di appartenenza davvero è fondamentale e la valutazione processi valutativi vedremo a citone anche in questo perché a volte spesso i progetti noi li facciamo per gli altri senza che gli altri ne lo sanno a volte ne ne sentono l'appartenenza e il riconoscimento quindi alimentare questo in tutte le fasi di vita del progetto dalla scrittura alla realizzazione alla valutazione questo questo elemento partecipativo quindi aumentare il senso di coinvolgimento concreto e di appartenenza è vitale ai fini della sostenibilità ai fini dell'appartenenza del senso di appartenenza di un progetto alle persone alle comunità ai territori dove andiamo intervenire e poi deve essere utile deve servire a qualcosa cioè altrimenti il tempo come dire sempre una risorsa limitata lo vedremo anche nelle prossime slide con processo valutativo costa non è un processo come dire for free è un processo è un processo costoso se fatto bene quindi deve essere utile ci deve dare delle informazioni che siano reali che siano rilevanti rispetto a quello che noi ci prefiggiamo di fare diciamo che ci sono diversi modi di intendere la valutazione l'importante che ci sia però diciamo una valutazione può essere diciamo intesa e proposta o da un soggetto esterno quindi rispetto a quello che è il partenariato interno di un progetto e al suo comitato di gestione spesso si affida il servizio di valutazione a un soggetto o un ente esterno con adeguate competenze ad hoc che possa lavorare lo sottolineo il stretto coordinamento con il gruppo di coordinamento scusate il refuso con il gruppo di pilotaggio insomma con il gruppo che si occupa di gestione del progetto però è un ente esterno è un esperto o un gruppo di esperti esterno la valutazione però può essere anche interna nel senso che può essere condotta può essere prevista da figure interne e afferenti alla partnership del progetto non scordiamoci i principi deve comunque essere indipendente cioè non può essere il project manager il coordinatore del progetto che fa anche il valutatore all'interno dei ruoli della partnership all'interno delle risorse umane individuate all'interno della realizzazione del progetto ci sarà anche una parte che avrà un ruolo e responsabilità legate alla valutazione interna interna perché non stiamo coinvolgendo nessun esterno questo dipende da tante cose diciamo dipende a volte anche dalla dimensione del progetto dipende dalle risorse finanziarie che abbiamo a disposizione perché è evidente che un tipo di valutazione interna richiede magari risorse più cospicue da appaltare all'esterno una valutazione interna spesso la si sceglie per progetti di dimensioni più limitate dove per ragioni opportune e riflessioni opportune è comunque oggettivamente possibile e utile avere anche un tipo di valutazione interna quindi diciamo non ci occorre altri tipi di ragionamento potrebbero essere afferenti anche legati al perché stiamo facendo questo seguiamo questo processo di valutazione soprattutto in per esempio in progetti che hanno un alto contenuto innovativo o dove si realizzano degli output quindi dei prodotti tangibili non tangibili sofisticati o comunque innovativi o comunque particolari che hanno esigenza di un processo valutativo adeguato e quindi a volte per esempio si potrebbe optare per questa ragione per un tipo di valutazione esterna piuttosto che interna non dobbiamo dimenticarci ovviamente dobbiamo intendere questo processo di valutazione anch'esso come qualcosa di trasnazionale quindi ci sarà un unico coordinamento unicamente trasnazionale il processo valutativo verrà poi attuato la raccolta delle informazioni verrà poi attuata nei vari contesti, nei vari territori che partecipano al progetto quindi mantenendo anche nella fase di valutazione la caratteristica propria di un progetto a gestione di retta della transnazionalità tutto è intimamente collegato gli strumenti, i processi, le fasi e l'uno richiama l'altro dall'inizio alla fine ora in che modo? potremmo anche parlare di una valutazione ex ante quindi di una valutazione nella fase di formulazione quando noi scriviamo al progetto il progetto poi è approvato perché risponde a tutti quei criteri di qualità di rilevanze eccetera eccetera che avete anche visto quando avete affrontato questi argomenti e si deve realizzare e si comincia a pensare a come impostare strutturare un processo valutativo ora il primo strumento che noi abbiamo già in possesso prima di ogni cosa che ci dà già un orientamento rispetto alla nostra valutazione e a come la vogliamo intendere strutturare è il quadrologico sostanzialmente che noi abbiamo già come dire strutturato in fase di scrittura di formulazione del nostro progetto cosa c'è nel quadrologico? nel quadrologico ricordate c'è nella prima linea abbiamo una prima strategia di intervento quindi il quadrologico riassume sinteticamente la strategia di intervento del nostro progetto l'obiettivo generale l'obiettivo specifico risultati a testi alle attività e poi accanto nelle colonne abbiamo gli indicatori le fonti di verifica tali indicatori e poi l'ultima sulle condizioni esterne quindi già il quadrologico inizialmente è il primo strumento che ci dà un quadro di riferimento su cosa dobbiamo valutare la logica di intervento quali obiettivi quali risultati quali attività lo abbiamo già scritto nel nostro quadrologico e in che modo? perché gli indicatori sono stati già posti e così le fonti di verifica ora se il progetto è stato ben valutato quindi è passato a finanziamento si presume che gli indicatori che noi abbiamo fissato rispetto alla strategia di intervento quindi rispetto agli obiettivi ai risultati e alle attività siano oggettivamente misurabili verificabili smart poi lo vedremo meglio quindi diciamo chi inizia a dover sviluppare questo processo valutativo lo fa inizialmente riprendendo il quadrologico di un progetto ovviamente questi strumenti che noi sempre utilizziamo perché non sono mai statici non sono mai da gestinare ma sono sempre utili nel ciclo di vita di un progetto non sono scusate mai statici nel senso che noi abbiamo presentato un progetto magari un anno prima magari due anni prima per i tempi della valutazione del progetto stesso capita spesso che le cose iniziano o in una fase successiva a volte molto poste anche rispetto a come l'abbiamo pensata quindi la prima cosa sostanzialmente è prendersi il nostro amato quadrologico e rivederlo rivisitarlo in maniera attuale cioè rivedere se la strategia di intervento che avevamo proposto e gli indicatori che avevamo proposto sono ancora attuali sono ancora verificabili sono ancora misurabili sono ancora rilevanti rispetto a quello che vogliamo fare quindi diciamo la revisione di questo quadrologico è il primo la prima azione che per chi si occupa di valutazione di monitoraggio e gestione è la prima cosa da fare quindi vediamo quello che abbiamo pianificato andiamo a riprendere il quadrologico che sintetizza in una pagina tutto quanto e vediamo verifichiamo se quello che avevamo pianificato un anno o due anni addietro è ancora attuale altrimenti lo rivisitiamo la prima parte diciamo del processo valutativo è afferente alla redazione allo sviluppo alla redazione di un piano di valutazione cos'è un piano di valutazione? è uno strumento è come tanti altri come il quadrologico come vari altri è uno strumento che ci aiuta a coordinare monitorare implementare e monitorare e anche rendicontare le nostre attività valutative rispetto al nostro progetto e o programma la funzione il piano di valutazione si diciamo ingloba una funzione sommativa nel senso che somma diverse singole funzioni spesso diciamo ci aiuta insieme al monitoraggio a verificare criteri di rilevanza efficacia efficienza ma potremmo aggiungere anche rilevanza sostenibilità eccetera eccetera impatto dai risultati del nostro progetto in un'estensione più ampia il nostro piano di valutazione ci aiuta a stimare l'impatto i cambiamenti che il nostro progetto genera con le persone e nei contesti dove interveniamo ci aiuta a garantire la trasparenza di ciò che facciamo ed informare i cittadini quindi aumentare i processi relativi l'accountability come ogni cosa come ogni piano ci rivolgiamo a qualcuno quindi a chi si rivolge il piano di valutazione cioè quando noi cominciamo a pensare a delle attività a chi si rivolgono queste attività noi il nostro obiettivo qual è? raccogliere questi feedback affinché possiamo essere orientati in tutte queste dimensioni da chi li raccogliamo questi feedback a quali gruppi target ci rivolgiamo possono essere variabili e cambiare da progetto a progetto e anche rispetto alle dimensioni e alla natura del progetto stesso sicuramente un gruppo target possono essere i coordinatori ma più in generale direi le risorse umane quindi anche gli expert legati direttamente all'implementazione di un progetto quindi chiedere informazioni direttamente a loro certamente un gruppo target potrebbe essere gli stakeholder gli attori chiave coloro che hanno interesse o che hanno potere di influire nel nostro intervento e o programma potremmo coinvolgere intervistare diciamo coinvolgere direttamente i gruppi target e i beneficiari finali cioè i gruppi che coinvolgiamo direttamente nella nostra implementazione e anche i beneficiari coloro che beneficeranno del nostro intervento se noi vogliamo in un processo di valutazione molto più ancora più approfondito ancora più puntuale sarebbe bello è possibile anche coinvolgere gruppi campione di comunità locali nei territori di riferimento e perché no come gruppi target possiamo anche inserire anche gli stessi donatori o gli enti finanziatori dei nostri progetti quindi questi sono i gruppi target a cui ci rivolgiamo che coinvolgiamo nel nostro processo valutativo com'è strutturato un piano di valutazione ovviamente non c'è un modo univoco di farlo io qua diciamo è un po' una sintesi di come una proposta di come di quali elementi generali debbano possano essere inseriti all'interno di un piano di valutazione in generale un piano di valutazione presente nei suoi obiettivi della valutazione che sono quelli che abbiamo visto prima ma poi declinati anche in maniera più specifico rispetto al nostro progetto di natura magari economica o scientifica o sociale o interculturale dipende dalla tipologia del progetto e di cose esattamente vogliamo valutare quindi l'oggetto e gli ambiti della valutazione avrà farà riferimento a dei gruppi target il piano di valutazione ci dirà anche quali sono i meccanismi di coordinamento le responsabilità dei soggetti coinvolti cioè chi si occupa di valutazione in che modo quindi l'approccio metodologico che tipo di valutazione con quali strumenti con quali tipologie di valutazione noi pensiamo di alimentare questo processo e ce ne sono varie adesso li vedremo quali sono gli strumenti che utilizziamo ce ne sono diversi il nostro piano di valutazione in linea con delle riflessioni che adesso andremo a condividere ne sceglierà alcuni piuttosto che altri quali sono gli indicatori cioè come valutiamo la nostra strategia di intervento i nostri obiettivi i nostri risultati i nostri prodotti lo facciamo attraverso degli indicatori quantificati tipo quantitativo e qualitativo il piano li rimanderà ci dirà come li valutiamo e in che modo noi diciamo avremo corrispondenza rispetto a quello che abbiamo pianificato ovviamente il piano ci dirà anche dovrà includere anche il calendario delle attività cioè come le attività di valutazione che prevediamo verranno implementate nel tempo nell'arco del nostro progetto spesso una volta diciamo come dire raccolti i dati tali dati verranno come dire analizzati verranno poi sviluppati in una forma di relazione raccomandazioni e verranno comunque comunicati quindi diciamo è buono che un piano di comunicati di valutazione contenga al proprio interno anche elementi su questo punto ma anche indicazioni su come i risultati della valutazione verranno comunicati all'esterno ai portatori di interesse eccetera eccetera spesso è utile anche allegare un glossario perché spesso si utilizzano i termini tecnici che non necessariamente diciamo sono di uso familiare per chiunque quindi spesso diciamo anche dare una sintesi del glossario degli elementi dei termini chiave che noi utilizziamo ci aiuta anche ad aumentare la nostra capacità di dialogo di far comprendere quello che facciamo agli altri poi ovviamente questo piano conterrà gli allegati finali ovvero i questionari per esempio comunque gli strumenti valutativi in genere che noi utilizziamo nel nostro processo valutativo allegati al piano come inizia diciamo un processo di valutazione cioè quando parliamo dell'oggetto perché valutiamo una cosa piuttosto che l'altra in che modo ci poniamo le cosiddette domande valutative quindi l'inizio di un processo di valutazione inizia con la strutturazione con la identificazione di una o più domande valutative che ci indicano lo scopo del nostro processo di valutazione cioè cosa esattamente e perché cosa esattamente vogliamo valutare come ho detto prima le nostre domande valutative non sono casuali ma vengono sono coerenti a quella che è la strategia di intervento del nostro progetto e programma ma le domande valutative si risponde tramite i criteri di giudizio cioè i criteri di giudizio individuano quali elementi caratterizzano il successo o meno delle nostre domande accanto ai criteri di giudizio stanno gli indicatori che ci dicono in maniera quantitativa e o qualitativa in che modo tali criteri di giudizio sono stati raggiunti e quindi rispondono a quelle domande di valutazione che noi inizialmente ci siamo posti gli indicatori stanno accanto ai criteri di giudizio stanno accanto alle domande valutative ci danno informazioni di tipo quantitativo e qualitativo cioè quanto e come diciamo che sono stabiliti sulla misura di criteri oggettivamente oggettivi sono oggettivamente verificabili misurabili non sono statici perché possono cambiare nel tempo rispetto al processo di ripositazione devono essere smart anche questa parolina io vi consiglio di tenerlo insieme al ciclo di vita del progetto anche gli indicatori devono essere specifici quindi correttamente definiti operativi e mirati misurabili dobbiamo misurarli cioè quindi non possiamo dire infiniti ma dobbiamo dire quanti 10, 20, 1 milione nessuno attuabili devono essere realistici in modo anche poi nel processo valutativo da poterne dare evidenza perché se abbiamo pianificato indicatori che non sono attuabili che sono trasognanti che stanno più sulla luna che sulla terra e quando poi andremo a valutarli nella fase di realizzazione avremo difficoltà non potranno essere realistici quindi avremmo già fallito e poi devono essere temporalmente definiti smart ultima T perché tutto quello che facciamo non può essere infinito nel senso che infinito è la visione rispetto al ciclo di vita del progetto ma noi andiamo step by step cioè andiamo fase dopo fase passo dopo passo quindi anche gli indicatori che fissiamo sono legati a un certo periodo di tempo gli indicatori si suddividono anche rispetto al grado nella logica di intervento possono essere di prodotto quando sono afferenti agli output e quindi a ciò che di tangibile realizziamo all'interno di un progetto per esempio produciamo in termini di prodotti quindi qua avete gli esempi i numeri di articoli i numeri di prodotti i numeri di realizzati i numeri di partecipanti coinvolti i numeri di presentazioni eccetera cioè ciò che a livello di prodotto output noi realizziamo quindi si chiamano indicatori di prodotto ma abbiamo anche indicatori di risultato quindi a un livello superiore al prodotto quindi dove in maniera più aggregata sostanzialmente ci danno evidenza indicatori che ci danno evidenza dei risultati raggiunti tangibili o intangibili è un livello maggiore alcuni esempi per esempio se noi abbiamo creato numero di attività formative come indicatori di prodotti probabilmente questo numero di attività formative è servito ad aumentare che ne so a rafforzare le conoscenze dei target coinvolti a rafforzare come dire a sviluppare nuovi approcci nuovi metodi al lavoro utili per sono stati creati numeri posti nuovi posti di lavoro sono indicatori di risultato quindi più aggregativi a un livello più alto abbiamo anche gli indicatori di impatto che stanno a un livello ancora più alto quindi a un livello di obiettivi obiettivo specifico e poi generale è difficile su questo tra dei numeri soprattutto quando andiamo a stimare l'impatto dell'obiettivo generale che ci proponiamo ricordiamo che l'obiettivo generale è il nostro contributo goccia quindi qua scusate nella slide non sono citati degli esempi ma potrebbero essere più afferenti magari a percentuali estraibili dal report magari più a livello europeo regionale quindi molto più al di là delle capacità del nostro progetto di calcolarli in maniera quantitativamente adeguata eppure ci siamo chiamati a fornire un'indicazione perché se noi vogliamo migliorare l'occupazione nella provincia non lo so di di Palermo il nostro progetto ci darà evidenza di quanti posti di lavoro sono stati creati in termini di indicatori di risultato indicatori di impatto poi magari potremmo fare una stima di quanto il nostro progetto in termini di contributo goccia possa contribuire fra due anni o fra tre a una percentuale di occupazione nella provincia aumentata abbiamo il nostro bellissimo quadrologico da questo noi sviluppiamo le domande di valutazione definiamo i nostri criteri di giudizio quantifichiamo gli indicatori e qua vi do un esempio pratico vedete qui come graficamente è semplificato quello che è più appena condiviso cioè quindi noi dal nostro quadrologico dalla nostra strategia di intervento estrapoliamo la nostra domanda valutativa è un esempio quindi diciamo il nostro obiettivo il nostro obiettivo specifico era quello di consolidare le imprese e la creazione di innovatività economiche di prodotti in un determinato territorio quindi rafforzare la capacità delle imprese in un determinato settore in un determinato territorio qual è la domanda di valutazione in che misura ora qua dice SSLL che sta per strategia di sviluppo locale è presa come cito anche che è la fonte da questo interessantissimo handbook in che misura il nostro progetto ha rafforzato le imprese esistenti al fine di rafforzare le proprie competenze produrre nuovi prodotti diversificare il mercato non so quindi vedete questa è la domanda valutativa cioè legata all'obiettivo specifico e o generale che è contenuto nel nostro quadrologico quindi la nostra domanda valutativa è strettamente collegata a quello che noi avevamo pianificato di raggiungere al nostro obiettivo passiamo ai criteri di giudizio in che modo noi vogliamo valutare che le imprese abbiano rafforzato le proprie competenze dobbiamo essere un pochino più specifici e su questo ci aiutano i criteri di giudizio quindi diciamo in che modo lo facciamo se le imprese hanno concretamente intensificato le proprie attività se sono state create nuove imprese nuove start up nuovi prodotti se magari si ha evidenza come dice ad esempio i prodotti del territorio godono di una maggiore reputazione visibilità quindi ho stabilito autonomamente mentre l'obiettivo specifico mi era gesto dato dal quadrologico mentre la domanda di valutazione era strettamente legata al quadrologico con i criteri di giudizio sono stato leggermente più autonomo nel senso ho individuato quali criteri possono specificare meglio la mia domanda di valutazione così mi è più facile stabilire degli indicatori vedete qua ci sono degli esempi quindi il numero di persone di imprese coinvolte numero di prodotti coinvolti numero di piccole imprese create visualizzate riconosciute eccetera eccetera quindi vedete come questo esempio ci dia l'evidenza di come a una fase embrionale qua è un prototipo in questo momento nella fase di redazione del nostro piano quindi di di riflessione sul nostro processo valutativo come lo stiamo cominciando a creare e non è una cosa complessa una cosa sempre semplice semplice se noi capiamo a cosa fa riferimento e fa riferimento non lo dico più al quadrologico agli obiettivi che ci siamo già prefissati a una loro rivisitazione rispetto allo stato attuale rispetto a come il nostro contesto si è cambiato rispetto alle domande di valutazione legate a questi obiettivi rispetto ai criteri di giudizio con cui abbiamo specificato meglio cosa vogliamo valutare e agli indicatori gli strumenti per la valutazione possono essere svariati io ora me ne cito qualcuno l'elenco non è limitato se ne possono aggiungere degli altri per la valutazione siamo chiamati poi a riflettere e a definire qual è il mix più appropriato di strumenti che ci postano in linea con le caratteristiche del nostro progetto che possono garantire l'utilità l'efficacia l'efficienza del nostro processo di valutazione la ricerca documentaria spesso diciamo soprattutto in una fase iniziale diciamo è utile diciamo avere come dire evidenza di tutto ciò che già si sa da report da analisi di contesto da progetti complementari da appunti da non so cosa che sia già diciamo stato ricercato che sia già disponibile rispetto a quel contesto o a quegli attori a cui facciamo riferimento un primo strumento è quello della ricerca di ciò che già esiste un altro strumento è quello dell'autovalutazione quindi provvedere un tipo di valutazione innanzitutto legato a chi è direttamente coinvolto nel progetto soprattutto in termini di coordinamento quindi prima ancora di entrare a intervistare o coinvolgere i miei target i beneficiari gli stakeholder le comunità locali eccetera eccetera mi autovaluto ovviamente con questa autovalutazione presuppone sempre l'elemento partecipativo perché abbiamo sempre detto lo rimandiamo ancora la solitudine non aiuta nemmeno in questa fase quindi anche l'autovalutazione è sempre un processo coordinato tra chi si occupa di coordinamento del progetto per esempio all'interno del comitato di pilotaggio quindi autovalutarsi quando ci rivolgiamo a soggetti esterni altri strumenti possono essere referibili per esempio alle interviste cioè nel senso noi possiamo utilizzare delle interviste sulla base di questionari strutturati quindi strutturare dei questionari rispetto a quello alle nostre domande valutative ai nostri criteri ai nostri indicatori e poi magari intervistare target stakeholder di riferimento ed estrapolare elementi quantitativi e qualitativi quantitativi sono i numeri quanti quanto ho fatto in che modo entro quanto tempo eccetera qualitativo è il come spesso il chiedere alle persone direttamente o indirettamente coinvolte quali siano stati i feedback o cosa si pensa quindi diciamo incrementare quella dimensione qualitativa come si intuisce di vitale importanza cioè arricchisce il nostro processo valutativo e i suoi esiti quindi diciamo complementa i dati quantitativi diciamo le indagini si differenziano perché sono più ampio raggio cioè quindi hanno un campione più ampio di popolazione che noi vogliamo in qualche modo raggiungere da cui vogliamo raccogliere dei feedback lo si può fare tramite post elettronica varie forme online ormai ce ne sono tantissime per telefono di persona però sono delle indagini piuttosto che delle interviste strutturate mirate limitate a volte lo possiamo fare attraverso focus group dei gruppi di riflessione che ovviamente presuppongono un numero di partecipanti maggiori per chi se ne occupa lo si fa attraverso un facilitatore non a caso possono essere i gruppi target i beneficiari i stakeholder sono sempre loro però lì raccogliamo delle informazioni attraverso degli elementi più riflessivi legati al lavoro di gruppo e ovviamente va da sé che questo tipo di attività è più semplice farlo con gruppi limitati quindi 15 20 persone è difficile farlo con 1500 oggi come dicevo prima l'aspetto qualitativo è sempre più rilevante perché il quantitativo non ci soddisfa più dice sì mi hai dato 10 ne ho raggiunti ho speso 10 ne ho raggiunti 10 ma poi quindi è utile diciamo prevedere degli elementi qualitativi per esempio oggi uno strumento di valutazione interessante è lo SROI non so se ne avete mai sentito parlare c'è la in inglese il social return on investment cioè il ritorno sociale sul nostro investimento cioè è un approccio che ci aiuta a misurare l'impatto sociale cioè il cambiamento che noi produciamo con riferimento al nostro intervento progetto e o programma cioè quindi ci aiuta a dare una misura a quantificare qual è il valore sociale ambientale culturale di ciò che facciamo un altro strumento non è l'unico per esempio sono sicuro che molti di voi l'avranno già sentito quello che è afferente alla network analysis alla social network analysis quindi all'analisi delle rete sociali che mira a stimare il capitale sociale della governance i legami e le relazioni di cooperazione tra individui e attori in un determinato settore in un determinato contesto anche lì sono strumenti che accanto accanto ai questionari accanto ai focus group accanto a altre cose ci danno ci aiutano a stimare ad un livello però più elevato come vedete qual è l'impatto cioè qual è realmente il risultato il cambiamento di ciò che stiamo facendo ovviamente capite bene come questi strumenti non siano esaustivi e come siano complementari quindi vi dicevo prima prevedere un mix di strumenti ci aiuta a soddisfare le nostre esigenze di valutazione quindi più alte sono più questo mix dovrà essere come dire forbito e complementare ovviamente nel nostro piano di valutazione dovremmo anche elencare le nostre attività di valutazione e quando noi dicevo prima andremo nella fase di sviluppo di un progetto quindi nella fase di formulazione di lavoro sull'application sul formulare di un progetto voi sapete bene che spesso si usa la tecnica della work breakdown structure cioè quello di prevedere la strutturazione di un progetto in macrofasi vi consiglio è utile prevedere una dove è possibile una macrofase un working package specifico anche per la valutazione quindi non inglobarlo immergerlo in altri per esempio nel management prevedere proprio una macrofase che sia direttamente dedicata alla valutazione quindi che preveda il coinvolgimento di esperti l'elaborazione di un piano di valutazione di relativi strumenti l'implementazione di questo piano la raccolta dei dati l'analisi e la redazione dei report e la restituzione di tali feedback durante il processo di realizzazione del progetto è in base esposta ai fini di accountability e di incrementare la nostra visione e quindi anche identificare che tipo di risorse umane e competenze sono necessarie che tipo magari di giornate ore quante giornate lavoro quindi fare anche questo tipo di previsioni e quanto costa adesso lo vedremo alla fine quanto costa quindi il nostro piano di valutazione prevederà anche un calendario di attività ovvero un GANT che ormai sapete benissimo tutti i cos'è è un diagramma che mette a sistema attività e quando a livello temporale pensiamo di farle quindi diciamo il nostro piano di valutazione darà evidenza di quali sono le attività di valutazione previste e di quando nell'arco del nostro tempo a disposizione pensiamo di implementarle una volta redatto il nostro piano siamo in grado di comunicarne gli esiti quindi i risultati di questo processo valutativo la forma più tradizionale è quella della reportistica quindi noi diciamo rispetto a questo processo prima abbiamo strutturato il nostro piano e abbiamo fatto il nostro bel mix di strumenti adeguati per la valutazione lo abbiamo implementato quindi abbiamo c'è una fase di raccolta dei dati di analisi nei vari territori con i gruppi target che il nostro piano richiama con gli strumenti che abbiamo individuato quindi interviste indagini abbiamo fatto dei focus group stiamo lavorando anche con la network analysis magari utilizzando lo drawing i risultati del nostro processo valutativo devono essere sintetizzati in quello che comunemente viene definito un report o una relazione di valutazione che dà evidenza della sintesi dei risultati di questo processo valutativo ed è la relazione con cui noi sia a un livello interno di progetto sia a un livello esterno di chi ci sta accanto comunichiamo quanto emerge dal nostro processo valutativo questo report di valutazione normalmente riporta sia a dati sia all'analisi dei dati rispetto a quanto emerge dal nostro processo valutativo e poi soprattutto delle raccomandazioni quindi c'è sempre una parte finale legata a una come dire a sosseguente a un'analisi dei dati e quindi a cosa si raccomanda fare quindi a cosa si raccomanda fare rispetto a scostamenti criticità al gruppo di coordinamento ai fini di raggiungere i nostri obiettivi oppure in fase poste a come i risultati e le esperienze che noi abbiamo accumulato nel nostro processo possano orientare ulteriori attori ulteriori esperienze una nuova fase di programmazione quindi come raccomandiamo di valorizzare ciò che noi abbiamo sperimentato e vissuto durante il nostro progetto ed è bello dire mi piace questa parola come i risultati della valutazione debbano essere interiorizzati in quella che è una visione futura cioè collegare sempre quello che si fa a ciò che prevediamo nel nostro futuro affinché in quel ciclo di vita circolare non moriamo all'interno di una delle sue fasi ma continuiamo a fluttuare ma dobbiamo anche avere un piano di comunicazione rispetto alla nostra valutazione cioè a come in che modo quando vogliamo comunicare tali risultati perché il nostro processo valutativo va comunicato le nostre esperienze vissute vanno condivise con gli altri con i nostri portatori di interesse con i nostri territori affinché questo possa essere utile quindi valutiamo anche affinché perché i nostri sforzi le risorse che abbiamo avuto a disposizione le esperienze che abbiamo vissuto siano replicabili trasferibili sostenibili e dobbiamo valutare comunicare come questo debba essere fatto è utile prevedere all'interno del nostro processo valutativo un processo anche di qualità assurance di controllo qualità controllo e gestione della qualità soprattutto con riferimento ai prodotti e servizi che il nostro progetto si prevede di realizzare faccio un esempio pratico se il nostro progetto ha obiettivi di tipo ambientale ecosostenibilità e poi andiamo a realizzare prodotti ad alto contenuto innovativo ecosostenibile magari non presenti sul mercato magari con caratteristiche da comprovare va da sé che il nostro processo valutativo deve anche comprendere al suo interno un processo di controllo qualità che dia garanzia che tali prodotti o servizi siano veramente adeguati rilevanti rispetto a quello che ci siamo prefissi e spesso lo si fa anche con un quality check adeguato un approccio metodologico al processo valutativo e al controllo qualità che è quello del dimming plan to check and act sembra semplice è una cosa semplice però spesso lo si omette io vi consiglio di richiamarlo sia in fase di scrittura di pianificazione del vostro processo valutativo e o di controllo qualità sia poi come strumento rispetto alla gestione monitoraggio del vostro processo valutativo e di qualità quindi plan pianificazione do questo processo di pianificazione è in linea con l'esecuzione di un programma di un progetto o di un'attività e noi facciamo il check attraverso gli strumenti e quel mix di strumenti che ci siamo prefissati come visto poco anzi dall'analisi valutativa di quello che facciamo agiamo quindi l'act elaboriamo azioni susseguenti quindi non lo facciamo sempre in maniera vendata ma lo facciamo in linea con un processo di pianificazione esecuzione controllo e ripianificazione continua delle attività e delle cose che facciamo al fine di migliorare o di raggiungere gli obiettivi e i risultati che ci siamo prefissati anche lì come vedete tutto quanto richiama sempre la circolarità così come il titolo di vita del progetto e quando noi andremo a presentare il nostro report finale ci verrà chiesta anche una relazione valutativa che ci darà in termini quantitativi e quanto più possibili in termini qualitativi evidenza di come gli obiettivi specifici o l'obiettivo specifico del nostro progetto sia stato raggiunto però poi una cosa interessante è che spesso poi non si sa quasi più niente di quello che accade dopo nel medio lungo termine dopo che il progetto è finito qual è il reale cambiamento cosa abbiamo realmente lasciato nel nostro territorio alle generazioni future ai nostri alle nostre comunità perché no ai nostri figli ed è questa l'ambizione oggi che la comunità europea gli stati nazionali a livello internazionale direi ci si propone di fare come dobbiamo valutare questo cambiamento e come lo possiamo stimare ed è sempre più qualcosa che verrà sempre più richiesto a un livello di programma soprattutto con riferimento sicuramente ai fondi strutturali ma anche ai fondi di gestione diretta o di cooperazione cioè cosa si è fatto all'interno di un programma e cosa questo programma ha generato oltre il suo livello quantitativo sarà sempre più richiesto a un livello di progetto quali sono un po' le fasi per stimare qual è il valore dell'impatto social del nostro progetto e programma anche lì ci dà indicazioni su come stabilire il campo di analisi su come coinvolgere gli stakeholder quindi richiamando sempre gli elementi partecipativi di quello che facciamo a come mappare gli outcome ricordate la datoria del cambiamento i comportamenti che nel medio e lungo periodo che noi generiamo quindi è come mappare al ritroso dal più lungo al più breve al più recente i vari cambiamenti che il nostro progetto sta a contribuisce a realizzare e poi a definire il loro valore attraverso diciamo degli strumenti specifici quindi a capire come un cambiamento non sia solamente fatto da da elementi quantitativi o se vogliamo finanziare cioè il cambiamento che in una determinata società spesso non è in un determinato contesto non è solamente il risultato di tot risorse finanziarie di spese o tot numero di risorse umane impiegato vengono sono inseriti elementi quali per esempio il volontariato il know-how le esperienze di un determinato territorio e o persone cioè elementi che spesso ci sfuggono dalla quantificazione perché spesso abbiamo speso mille però poi ci sono state date mille ma abbiamo messo il valore relativo a quanto un tipo di processo di volontariato o un tipo know-how specifico o una determinata condizione ha caratterizzato la realizzazione di quel cambiamento quindi lo sdroidi poi ci aiuterà o così anche altre tecniche a vedere come noi saremo in grado di facilitare i processi di governance per esempio a creare capitale sociale a favorire le relazioni il trasferimento del know-how delle competenze a quanto valga il valore volontario degli altri accanto a quello pagato tante cose questo è lo sdroidi così per ovviamente in pillola in pochi minuti la valutazione è tutto bello quello che ci siamo detti ed è fondamentale ed è importante però tutte le cose hanno un costo che dobbiamo prevedere che tipo di costo intanto in termini temporali perché capite bene che tutto questo è legato a un processo temporale quindi diciamo non può essere un processo spot è fatto lo faccio all'inizio e basta lo faccio alla fine e basta no lo si fa appunto è un processo non è un'attività quindi diciamo richiede tempo richiede tempo richiede tempo anche rispetto a chi lo fa sostanzialmente quindi richiede know-how abbiamo detto che deve essere credibile quello che facciamo quindi non lo si può a mio avviso improvvisare si può sperimentare si può imparare però è sempre utile farlo su base oggettive sui metodi con metodi e strategie appropriati quindi diciamo presuppone anche l'investimento di risorse per esempio all'inizio ti chiamavamo valutazione esterna o interna dipende che risorse abbiamo cioè a livello soprattutto finanziarie cioè a quanto possiamo permetterci processi valutativi più sofisticati o meno o a quanto dobbiamo necessariamente pensare e quindi pianificare processi valutativi di un certo tipo piuttosto che altri quindi si capisce bene che la valutazione ci deve essere però questa può assumere caratteristiche dimensioni modalità diverse a seconda della delle risorse che abbiamo a disposizione che sia